È ambientato nella barriera estrema però perché mi piaceva ricordare che se si vuole migliorare quella che è la convivenza civile bisognerebbe proprio partire dalle barriere. C'era una volta un'intervista e un lungo dialogo con Renzo Piano che sosteneva che bisogna rammendare le barriere. Sono partita da questa parola, rammendo, perché è una parola che mi piace molto e credo che se si vogliono evitare le conseguenze più dure e più tragiche della convivenza in momenti difficili bisogna partire proprio dall'offrire speranze positive alle barriere. Ci sono altri risuolti e altri temi sempre legati al rammendo, quindi non solo il rammendo materiale, fisico di certe aree della città, ma anche il rammendo del tessuto sociale, delle relazioni affettive, dei rapporti comunque con chi ci sta vicino. Cioè le due cose vanno secondo me abbastanza di pari passo. Margherita Gero è nata e cresciuta in Barriera di Milano e quindi torna a casa, diciamo così, torna con questo libro che è La vita è un cicles, il libro racconta tanto Barriera di Milano e la racconta con un po' di cinicità, nel senso che la racconta un po' come la raccontano a volte gli abitanti stessi che è brutta, è sporca e non ci va più nessuno, un po' una diseredata, la periferia diseredata come in realtà invece non è perché questo è un quartiere ricco, è un quartiere dove molte realtà e cittadini fanno la differenza e si attivano per il bene del quartiere, che è un valore invece molto 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 raro e dove parlando di lettura proprio tra cittadini, la libreria La Casa delle Note, la casa di quartiere dei bagni pubblici di Viaglie e le biblioteche è nato un progetto che si chiama Passaggio a Nord-Ovest dove la presentazione di questa sera è inserita, che è un progetto che ci ha messo in rete tutti insieme, la Fondazione Amendola, siamo un bel gruppetto proprio per promuovere la lettura in maniera integrata, tutti insieme, la lettura è ahimè un tallone di Achille dell'Italia l'Italia è il paese che legge meno in Europa, è il paese che ha meno librerie, con il livello ormai si parla di analfabetismo di ritorno molto in alto e allora ci sembrava interessante che forse unendoci tutti insieme unendo le forze tutti insieme si potesse provare a costruire un nuovo impatto proprio sulla lettura che invece rimane lo strumento più antico e più semplice per riuscire a leggere meglio il mondo.